Eseguito all'alba il controllo su uno dei due ponti di Selvazzano Dentro, la struttura che si trova in paese a poca distanza dal municipio e che scavalca il fiume Bacchiglione è stata chiusa al traffico per quasi tre ore. Quattro camion del peso di 400 tonnellate l'uno sono stati posizionati sopra il ponte della Libertà per verificarne la stabilità. La prova è andata bene, la struttura ha evidenziato cedimenti al di sotto della norma. Ora il sindaco Enox Oranzo e i tecnici comunali attendono l'esito delle ulteriori prove per avere la diagnosi completa. Il ponte di Tencarola verrà invece ispezionato domenica 9 settembre con chiusura al traffico a partire dalle 5 del mattino.